buongiorno vieni qua ti devo dire una cosa bella bella c'è ingazzasta eh si sono ingazzata che succede? tuo nipote stamattina mi ha lanciato un sasso grosso così mio nipote? tuo nipote e ti ha fatto male? ma veramente non mi ha preso per fortuna e allora non è mio nipote? quello è così preciso come un cecchino a me ieri chiamì chiamì momu che ha ancora da cì e via! quindi non è tuo nipote ehi che cucini oggi ti buono? è un piatto francese nouvelle cousine come si chiama? la chaude cavale eh chaude cavale eh si come quando la poesia incontra lo chef grazie